Danciatrici in erba della scuola di ballo dell'opera di Vienna, sorprese dall'obiettivo durante il rigoroso metodico allenamento quotidiano al quale si sottomettono nell'intento di giungere ad emulare Tersicore. Acht, vorführen das Bein, ein, zwei, ein B, drei, Attitüde ist fertig, fünf, sechs, langsam ausstreckt arabes, acht. Acht, vorführen das Bein.